e le tracce di un insediamento etrusco romano. Mentre nel 1964 esplora la tuscia in cerca di location per alcune scene del film Il Vangelo secondo Matteo, il colpo di fulmine per questo Locus Amenus, che riuscirà ad acquistare nel 1970, trasformandone una parte con l'aiuto dello scenografo premio Oscar Dante Ferretti nella sua casa di luce. Pietra, legno e menze vetrate sul verde. In questo rifugio dell'anima Pasolini trascorrerà gli ultimi anni di vita, lavorando a romanzo il compiuto, petrolio e scrivendo molte delle sue lettere luterane. Fino ad oggi la torre di Pasolini è stata aperta al pubblico una volta al mese su prenotazione, grazie a un accordo tra la cooperativa sociale Il Camaleonte e gli eredi del regista, eredi che con cura e sacrifici hanno preservato e valorizzato questo screen di storia e cultura. Quando lo visitatore, il fruitore si trova all'interno di questo spazio rimane affascinato, c'è una proiezione in un altro tempo. Adesso purtroppo i costi elevati di gestione hanno costretto gli eredi a mettere in vendita, malinquere la torre al prezzo di 800.000 euro, con il timore che venga trasformato in un resort, quando invece meriterebbe di essere tutelata e destinata alla cultura. Per noi è parte della storia, è parte del territorio, bisogna reciclire. Per cui lì per tappiare la famiglia noi cercheremo come comune di inserirci nell'atto d'acquisto, se troviamo le possibilità. Nella torre di Tia Pasolini accoglieva sia personaggi illustri come Bernardo Bertolucci e fratelli Taviani, sia gli amici del posto. Principalmente erano i ragazzi della zona, quindi ragazzi che venivano da Bomarzo, di Chiassessa, oppure che venivano da Soriano. Posso dire che anche mio padre ha frequentato spesso il gruppo di Bertolucci e Basolini, perché giocavano a calcio nel campetto di Bomarzo e poi andavano a fare delle cene e delle grigliate lì al Fosso Castello. Non lancio a perdi, ma ho scritto al Ministero dei Beni Culturali e sono convinto che la sensibilità che il Ministro ha dimostrato in casi similiari a questo si farà manifesta anche a Soriano del Cimino. Il Ministro Franceschini non permetterà che questo bene diventi un bene privato, che non sia più fruibile, non solo dalla comunità di Soriano del Cimino, ma dalla comunità italiana e mondiale, perché per Paolo Basolini è rappresentato e rappresenta tuttora un punto cruciale della cultura italiana.